Il Covid non ferma la tradizione. L'Aquila il 19 e il 20 maggio festeggia il suo compatrono San Bernardino da Siena con celebrazioni religiose ma anche culturali. San Bernardino tra comunicazione e solidarietà sono i temi cardine del momento di confronto che ci sarà il 19 alle 17 con presenze illustri del territorio e non. Il giornalista storico Capezzali, Don Bruno Dasani, il professor Biagio Oppi, il giornalista Mario Narduccia e Giulio Chilante, art director di un'agenzia aquilana. Saranno dati riconoscimenti alla conduttrice Rai Rolena Bianchetti, a Francesca Fialdini e all'attore e conduttore Giovanni Scifoni. Riceveranno il trigramma bernardiniano. Certamente il programma religioso che è centrale ma anche nel solco sulla scia della tradizione della cattedra bernardiniana che negli anni ha avuto tanti meriti. Abbiamo voluto attualizzarla e pensando all'oggi, dove la comunicazione ha assunto tanta importanza, guardare a San Bernardino come comunicatore e nello stesso tempo come lievito di solidarietà. Quindi comunicazione e solidarietà sono i due poli su cui andiamo a mettere il focus sulla figura di San Bernardino. San Bernardino è stato un predicatore stancabile in giro per l'Italia e anche dopo la sua morte nel 1444 all'Aquila continuò la sua opera di pacificazione. Giunto morente in una città divisa dalla guerra tra fazioni, il suo corpo nella bara cominciò a versare sangue e il flusso si arrestò soltanto quando i cittadini aquilani si riappacificarono. Il culmine della festa è il 20 maggio alle 11 con la Santa Messa con l'offerta dell'olio, quest'anno ad opera del nono reggimento alpini. La cosa bella è importante che nonostante il covid, nonostante le restrizioni che abbiamo, noi non vogliamo far mancare questo momento così importante per la città dell'Aquila, per i fedeli, nell'onorare il nostro compatrono San Bernardino. Il suo apice è nell'offerta dell'olio alla lambada votiva che arde perennemente davanti al mausoleo al corpo del Santo e quest'anno sarà il nono reggimento alpini a compiere questo gesto, proprio come segno di questo corpo degli alpini che promotori della pace ma anche come segno di solidarietà, perché gli alpini come sappiamo soprattutto per la nostra città dal terremoto, adesso con il covid, sono sempre presenti.